Bentornati per una nuova puntata di RockPolitik. In questa nuova puntata vorrei parlarvi del nuovo fenomeno, quello del Partito dei Verdi e dei movimenti ambientalisti. Questo nuovo Partito dei Verdi sta rispontando in questi ultimi anni molto successo nei paesi europei. Abbiamo visto negli ultimi anni come nelle varie elezioni europee questo Partito abbia riscontrato molto successo. Nel Regno Unito il Partito dei Verdi ha ricevuto più voti appunto dal Partito Conservatore che sta governando in Inghilterra, nel Regno Unito. In Austria il Partito dei Verdi è riuscito a scansare l'estrema destra e in paesi come Svizzera e Germania il Partito dei Verdi ha comunque riscontrato lo stesso buon successo e in Germania è andato pure al governo con il partito della Merkel. Ma come mai questo nuovo partito sta riscontrando così tanto successo? Cosa possiamo ricollegare questo successo del Partito dei Verdi? L'ipotesi sono due, prima di tutto dagli anni 90 in poi i valori post materialistici stanno dilagando in Europa, ci stiamo concentrando appunto su temi molto più conflittuali, ci stiamo distattando da altre tematiche. Ovviamente in Europa la tematica principale è rimane sempre l'immigrazione, come possiamo notare nei dibattiti televisivi, nei dibattiti politici, ma comunque questa nuova tematica ambientalista sta iniziando a stare molto a cuore alla popolazione europea e piano piano anche alla popolazione italiana, infatti il Partito dei Verdi rimane sempre al 2% in questo momento, però è il partito più in crescita in Italia. Possiamo ricollegarci a questo fenomeno, per spiegare questo fenomeno, appunto a due fenomeni. Il primo è quello di Greta Thunberg, la ragazzina svedese, l'attivista svedese che con le sue giornate, le Fridays for Future, è riuscita appunto a mobilitare i cittadini, soprattutto i giovani. Nelle varie città d'Europa abbiamo notato a Torino grande mobilitazione nei centri storici, in piazze, ma anche in giro per l'Europa. Abbiamo notato col Black Friday questi movimenti anticonsumisti in giro per il mondo, a Tokyo, in Australia, mossi appunto dall'attivista svedese Greta Thunberg. Ma come mai una ragazzina di 15 anni è riuscita ad avere così tanta visibilità a livello internazionale, ma soprattutto qual è il suo ruolo? Un ruolo sociale o un ruolo politico? Ovviamente lei è iniziata con un ruolo sociale e il suo era un movimento sociale, ma poi successivamente la ragazza svedese è riuscita ad avere anche un ruolo politico, è andata a parlare all'ONU, ha avuto dibattiti con politici internazionali e di grande livello istituzionale. Questo fenomeno io appunto lo ricollegherei al sostegno che è stato dato Greta Thunberg dalle nuove industrie, nuove aziende e che si occupano di sviluppo sostenibile, che stanno avendo sempre più risorse e più visibilità. Appunto un esempio lampante è quello di pochi giorni fa della Tesla, l'agenzia, l'azienda di marketing gestita dal CEO Elon Musk, che appunto si occupa di creare un nuovo mondo, quello che appunto guardavamo nei cartoni animati da piccoli, per esempio in Futurama. Creare appunto queste nuove macchine che voleranno, che si guidano dal sole. Comunque Elon Musk in questi ultimi anni è riuscito ad avere molta visibilità grazie anche alle sue strategie di marketing, come abbiamo visto appunto con il suo lancio del pick-up, del nuovo pick-up, che già ha riscontrato molto successo. Elon Musk possiamo dire che appunto è il nuovo lobbista ambientalista nel mondo attuale. Infatti questi nuovi movimenti appunto a favore dell'ambiente avranno comunque sicuramente hanno del sostegno grazie a interessi forti alle spalle. Infatti secondo me possiamo ricondurre appunto questi nuovi menti sociali, questa visibilità di Greta Thunberg al capo ambientalista appunto Elon Musk, che appunto ha regalato anche una Tesla alla ragazzina svedese. Quindi secondo me questo nuovo fenomeno ambientalista potrà mettere in difficoltà le lobby petrolifere, assolutamente. Infatti diciamo che Elon Musk è già riuscito a riscontrare molto successo in giro per l'Europa. Negli Stati Uniti Trump appunto, come dice il detto, di tenersi i nemici vicino a sé, è riuscito a farlo entrare appunto tra i suoi consiglieri. Però Elon Musk per colpa di Trump non riuscirà mai ad avere tutto quel sostegno e quella visibilità in quanto Trump con gli interessi delle lobby petrolifere. Quindi in questo momento possiamo dire che questo movimento ambientalista si sta sviluppando, abbiamo appunto delle grandi mobilitazioni e possiamo assolutamente dire che la prossima guerra economica e politica sarà appunto mossa tra le lobby petrolifere e le lobby ambientali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.